c'è dove d'arrivo a mettere per tutto lo c'è un ma tu imbattas, imbattas, vg imbattas oh, l'altro vabbè, vabbè, vabbè UAB, nemico, in volo ok, la mira ascesa, ascesa la casa bianca, la casa bianca a terra, la casa bianca una morto un'altra buscia atterrato sopra mi hai sparato un'altra parte, raga eccolo sotto un altro team mi hanno sfondato sciaffa sciaffa vabbè ecco compagno finito nel gula non capivo se è una lezione, è un bravo non capivo se è una lezione, è un bravo mica sei solo, aspetta un secondo dammi colpiamo lancio una stordente granata lanciata, granata partita dai, non morire però due, tirare le bocce di qua, raga cambio posizione chiedere i boccioni? si porco addio ma cecchino, ma cecchino quanto ho messo la mina se sargono uno quasi a sinistra oh oh puoi farcela eh che cazzo in dove sono saliti dai mina il suo esplode ho messo in due compagno nel gulag se sopravvive può tornare in azione avete un lancio d'equipaggiamento in arrivo comunque dobbiamo riprendere punizione quando è così si raga compagno finito nel gulag chi sopravvive lì torna in umanine ora fanno i due lontani dai dai gas in arrivo alla nuova zona sicura ha riuscito a queste feste il vostro compagno mamma mia uuuuuh ti sei scopati tutti non staccia ma n***a strinna va ah n***a tu tu puoi un muro e li hai fatto zaccetti now ah no 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 ah tu hai un corpo guarda la roba questo accadente attenzione il nostro compagno è stato sconfitto sta tornando alla base se stagni e si so che sto però non so perché anche l'emico è discesa e stava da un botto l'arca ecco l'eca l'uomo non lo so 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 elicotteri di rifornimento in arrivo hanno carico prezioso ma lo d'auto regalo d'auto ma l'età detto amico in discesa mi vuoi tol di ecco la nota lo d'auto ma due sono morti la casa di ora gli ha sparato ma c'è più è sceso l'ho ammazzato ok restane forse vi tolghi avessi 2400 stanno qua 100 ci stanno a destra a destra arriva dagli santi arrivo cazzo ok vai agne ho fatto il mio fantasma sto da dentro casa regano sto da dentro casa maddin si aspetta sbagliato armi ma è stato dire continui come fa cazzatecino lo so di ah ma lo lasci hai preso eh si ho preso lo lasci ho preso il car l'ho sbagliato ce l'ho io da niente poi lasciamola è buona uapin nemico in volo abbastanza uapin nemico in volo uapin nemico in volo la skin che c'ho è bella ma la vedono tutti io dai via armi dove sono morto ragazzi dove sono morto più che altro grazie